comandante per favore di riposo riposo gentili colleghi del governo centrale presidente della regione signor sindaco autorità civili e militari tutte gentili ospiti allievi qui presenti ed in collegamento dagli istituti di abbasanta brescia pescara piacenza e spoleto la suggestiva cornice di questa meravigliosa piazza dedicata all'unità d'italia contribuisce a conferire solennità ad una cerimonia che già di per sé avvolta da un'evidente emozione un'emozione che vi dovete credere non è soltanto la vostra ma è anche la mia e quella di chi con qualche anno in più di anzianità prende parte a questi momenti di snodo con l'entusiasmo di accogliere energie nuove con la responsabilità di trasmettere un esempio un buon esempio in questo senso il vostro giuramento odierno ci riguarda tutti non vincolo infatti soltanto voi ma richiama anche noi all'impegno finché saremo in servizio di trasmettervi gli altissimi valori e le raffinate competenze che distinguono la polizia di stato e tutto questo nella consapevolezza che alla base della nobile funzione di garantire la sicurezza dei nostri concittadini c'è innanzitutto uno slancio generoso e leale tra colleghi carissimi allievi siate fieri di voi avete superato una selezione dura sorretti dalla vostra motivazione e da una solida preparazione dovrete allenarle sempre l'orgoglio che provate oggi indossando questa divisa dovrà essere il motore che vi porterà a cercare sempre di migliorare perché da oggi migliorare voi essi significherà migliorare la vita delle persone la sicurezza infatti un elemento cardine e strategico per lo sviluppo di ogni forma di pacifica e civile convivenza sociale come volano per la ripresa e la crescita del nostro paese il concetto di sicurezza si è evoluto attraverso un percorso storico che è culminato nei tempi più recenti nella concezione della sicurezza quale precondizione a garanzia dei diritti dei cittadini si tratta di un'evoluzione che affonda le proprie radici nella nostra carta costituzionale ma nella stessa legge 121 dell 81 legge che segna la conquista di una visione identitaria comune esalta il pluralismo delle forze di polizia e trova nel coordinamento delle forze di polizia il suo punto di forza in quest'ottica le forze di polizia esercitano il ruolo di garanti delle libertà costituzionalmente sancite tra loro tra esse la polizia di stato che è di salda cultura democratica forte di una solida vocazione al pluralismo e all'azione coordinata e chiamata a fare da baricentro per le esigenze di una società complessa che fa i conti con problematiche inedite spesso connesse alla mancanza di vivibilità di alcuni territori critici in questo senso l'obiettivo della vostra valutazione al servizio dei cittadini non mirerà garantire solo la sicurezza reale ma anche quella percepita intesa come sentimento di sicurezza delle persone nella propria comunità e la cerimonia odierna cari allievi è assolutamente significativa perché giurare significa legarsi impegnarsi obbligarsi significa creare un vincolo da cui non è possibile sciogliersi se non tradendo l'impegno assunto il patto che oggi contraete ha un significato profondo e un impegno che implica l'assunzione di un'autorità che attraverso il servizio significa soprattutto autorevolezza questa autorità di cui siete e siamo investiti si esercita infatti suscitando la fiducia nei cittadini e rendendosi credibili agli occhi degli stessi dovete sentire con orgoglio il peso di amministrare la sicurezza consapevoli che di fronte alle incertezze che oramai da troppo tempo caratterizzano la nostra società ciò che fa la differenza è lavorare con lealtà equilibrio coerenza responsabilità in ogni versante che intercetta la funzione che si è chiamati ad esercitare e la credibilità la misura del valore dell'agire quotidiano e la fiducia è il risultato di un'alleanza con i cittadini che si rinnova ogni giorno attraverso la condotta di ciascuno il vostro giuramento oggi inaugura una missione a favore del bene comune siete investiti di una responsabilità sociale perché siete al servizio della sicurezza e delle libertà valori fondamentali in una democrazia che fanno del ministero dell'interno un ministero di garanzia definito non a caso il cuore della repubblica e voi incarnerete in questa funzione un baluardo di legalità il vostro lavoro quindi chiama in causa la competenza sicuramente ma anche l'umanità sono qualità tali qualità in uno con la prossimità al cittadino che devono rappresentare la stella polare delle vostre azioni e di vostri comportamenti devono rappresentare il modo in cui si declina il motto della polizia di stato esserci sempre il vostro servizio deve rispecchiare una gerarchia di valore in cui la persona in ognuna delle decisioni da assumere o situazioni da governare deve occupare sempre il primo posto il vostro servizio deve essere vissuto alla luce di un'etica superiore l'etica della ragione dell'utilizzo consapevole e ponderato della forza agite sempre con lucidità rifugendo qualunque condotta che possa ingiustamente ledere un diritto o compromettere la reputazione della divisa che portate con la vostra rettitudine il vostro coraggio e la vostra dedizione anche nel solco dell'esempio di colleghi che hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere contribuirete ad edificare valorizzare l'immagine della polizia di stato rendendo a tutti manifesto con le vostre azioni concrete che chi tradisce la propria missione con comportamenti che oltraggiano la dignità umana e offendono l'onorabilità della polizia di stato semplicemente non è un poliziotto e quindi grazie a tutti viva il 220esimo corso viva la polizia di stato viva la meravigliosa città di trieste e viva l'italia grazie 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 grazie